Emergenza Eternit a San Lorenzo Marina. Sono diverse le segnalazioni ricevute dai cittadini larenziani riguardo questa vecchia fabbrica di pipe e mattoni che vedete nelle immagini. Nulla di strano, considerando i diversi complessi ex industriali abbandonati in tutto il territorio del sud Italia, se non fosse che sono coperti da centinaia di metri quadrati di Eternit che potrebbero essere letali per l'intera popolazione. Ma procediamo con ordine. L'Eternit è un marchio di fibrocemento a base amianto, non più in commercio dal 1994, nonché il nome della ditta che lo produceva. Nel 1933 fecero la loro comparsa nel mercato le lastre ondulate usate per tetti e capannoni. Questo materiale venne impiegato anche in scuole, ospedali, palestre, cinema, oltre che in tutti i settori industriali. Anche a San Lorenzo Marina, che nel 1949 vide nascere la più grande fabbrica di pipe in Calabria, tra le più importanti di tutto il meridione. Dall'archivio degli eredi dell'allora proprietario, infatti, scopriamo che nel momento di massimo splendore la fabbrica arrivò ad occupare ben 150 addetti. Già nei primi anni Sessanta era noto in tutto il mondo che la polvere di amianto, generata dall'usura dei tetti, provocasse una grave forma di cancro, il mesotelioma pleurico, oltre che asbestosi, malattia polmonare cronica dovuta all'inalazione di fibre di amianto. Nonostante questo, si continua a produrre oggetti in Ethernet fino al 1986 e solo dal 1992 è vietata in Italia l'estrazione, l'importazione e esportazione, la commercializzazione e la produzione di questo materiale. Per legge, lo smantellamento di tetti o altri manufatti che contengono amianto è obbligatorio solo se si trovano in uno stato di degrado tale da poter formare delle particelle che possano essere inalate e quindi possano essere letali. Ed è il caso della fabbrica di pipe di San Lorenzo Marina. Qui infatti ci troviamo di fronte ad una emergenza gravissima, con centinaia di metri quadrati di Ethernet prossimi alla disintegrazione ed in via costante di deterioramento, con molte lastre già spezzate e quindi pericolose. soprattutto per i cittadini di San Lorenzo Marina, esposti letteralmente a tiro di vento a questo scempio del tempo.